Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Gesù ti amo con la tua volontà, vieni Divina Volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mio Divina Maria, ti amo nella Divina Volontà, Regine Immacolata, Celeste, Madre Mia. Vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi fra le tue braccia, per chiederti cos'ospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel Regno della Divina Volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, mettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel Regno del Volore Divino e stretto la tua mano materna guiderai tutto l'essere mio affinché faccia vita perenne nella Divina Volontà. Tu mi farei la mamma e con mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la Divina Volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal Regno Suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Amén. Mio Signore, vengo a te a farmi la vita del Fiat Supremo Voglio essere il tuo peco nel diffondere su tutto l'amore divino e chiederti per tutti il tuo regno e chiederti per tutti il tuo regno Dio, Dio, ti dono il mio volere Mio Re Ambi il regno del Fiat Supremo Mio Dio Ti dono il mio volere Mio Re Ambi il regno del Fiat Supremo Grazie a tutti. 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 Figlia mia, tutto ciò che pensi adesso lo pensavi da che stavi scrivendo il sedicesimo volume, che io dovevo cessare di parlare della mia volontà. Grazie a tutti. 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 è il silenzio, che dobbiamo imparare anche noi e punto secondo come Gesù fa nella seconda parte la distinzione tra quelli che lui chiama i caratteri umani e i caratteri divini dell'agire come sempre ci troviamo in un mondo che ha bisogno di pazienza costanza, perseveranza luce anche per essere compreso perché tutto ciò che è divino, come sappiamo trascende la nostra capacità infinitamente trascende la nostra capacità di comprensione quindi ci accingiamo a meditare occasione contingente Luisa nota non soltanto l'assenza di Gesù a quello che lei scrive ma anche il silenzio di Gesù non mi parli più nemmeno della tua volontà non è che smetterai e Gesù rispondendo le dice numero uno tutto ciò che adesso pensavi lo pensavi anche quando stavi scrivendo il sedicesimo volume qui siamo al ventitreesimo sedicesimo volume adesso non ricordo evidentemente a memoria degli anni però potrebbe essere da 16 a 23 anche 4 o 5 anni prima no? e Gesù però gli dice questa percezione è erronea questo vale anche per noi perché il silenzio in Dio non significa assenza di comunicazione significa darti il tempo per riflettere assimilare digerire cominciare a vivere a mettere in pratica lo vediamo anche per la nostra attività umana no? noi non è che stiamo sempre a mangiare a mangiare si comincia si finisce quindi tu hai fornito la materia prima al tuo organismo e come ben sappiamo non è la prima volta che gli iscritti ci offrono l'opportunità per una applicazione di questo genere il cibo deve essere assimilato e quindi deve essere metabolizzato e quindi deve attivarsi un processo che si fa nello stato della nostra più totale incoscienza no? c'è qualcuno che sa dire che ne so quando la massa di ciò che si è mangiato passa dallo stomaco che ne so all'intestino tenue e comincia oppure quando ci sono tutte quante le operazioni di scissione della separazione delle scorie da quello che deve essere assimilato poi della trasformazione cioè se uno ha studiato io adesso parlo in maniera generica perché nei dettagli tutti quanti i particolari del processo di digestione confesso non li ricordo li ricordo in maniera generica perché come dire aumentando gli anni aumentano le informazioni in maniera vertiginosa e quindi quelle più antiche acquisite a scuola vanno nebulosizzando si può dire questa questa parolaccia questo strampalato neologismo no? quindi diventano nebulose quindi meno chiare quindi è meglio rimanere neologenerico per non dire sfrondoni no? in ogni caso stiamo facendo un trattato certamente di fisiologia umana no? quello che conta è l'esempio cioè il processo di digestione avviene in maniera inconsapevole questa inconsapevolezza diciamo così è ciò che il silenzio è per le cose spirituali allora qui apriamo una parentesi abbastanza ampia perché ci sono molte cose che non funzionano e sono tutte quante pericoli e tentazioni in cui cadono quasi tutti d'accordo? specialmente i cosiddetti principiati ma a volte anche i proficienti San Giovanni della Croce alcune di queste cose le chiamava la gola spirituale che cos'è la gola spirituale? la gola spirituale è proprio di quelle persone che magari trovano qualcosa di bello e quindi cominciano a fare le overdosi quindi trovano un libro su una certa materia se lo divorono e poi lo vogliono un altro e poi lo vogliono un altro e poi lo vogliono un altro ancora e poi lo vogliono un altro ancora trovano che ne so un autore interessante si leggono a raffica a mitra cioè divorandoli quindi senza neanche pensare su tutti quanti i libri che ha scritto oppure sentono il predicatore interessante via vrum cento miliardi di ore ad ascoltare cose sempre nuove sempre nuove sempre nuove sempre nuove sempre nuove e poi però che succede? cambiano le vite? no pensiamo le persone che ancora non hanno imparato per esempio a fare bene l'adorazione o il ringraziamento a Gesù che è una cosa fondamentale ma che si fanno imparando a vivere santamente il silenzio cioè se uno sta davanti per esempio all'eucaristia immaginiamo e fa soltanto una montagna di preghiere epocali tutte e tante cose buone cioè dice il rosario poi dice la coroncina alla divina misericordia poi non so che altro fa poi va la via crucis che ne so devo stare un'ora tantissimo sacramento che faccio adesso la riempio con tutte quante queste pratiche di pietà per carità sono cose si capisca sono cose buone ma ma il motivo per cui Gesù rimane nell'eucaristia nel tabernacolo oppure ancora si espone è semplicemente perché tu quelle stesse pratiche di pietà che puoi fare dovunque le faccia davanti a lui è solo questo è tutto qui dobbiamo pensarci o il silenzio ci sono per esempio alcune celebrazioni pubbliche della della adorazione eucaristica dove non c'è neanche un secondo di silenzio oppure ci sono degli spazi talmente minimali cioè di 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 un minuto cioè è un continuo si legge il basso della scrittura e poi sull'al silenzio e poi il canto e poi si chiacchiera e poi la preghiera litanica e poi la preghiera responsoriale cioè per carità bisogna avere rispetto per tutte quante le forme magari qualcuno si trova bene così io io soffro in queste in queste cose qui perché quando si sta davanti all'eucaristia certamente se fai un'adorazione animata comunitaria non puoi fare un'ora di silenzio assoluto io la farei molto molto volentieri personalmente però se è un'ora comunitaria quella serve anche a come dire a pregare insieme ed anche ad aiutare le persone che desiderano essere aiutate ad entrare nello spirito dell'adorazione però ci deve essere un tempo di silenzio prolungato due minuti non bastano manco tre io personalmente cerco di farne non voglio parlare di me ma quando faccio l'ore sante chi mi conosce lo sa cerco di fare almeno quel quarto d'ora anche perché le persone che vivono quel quarto d'ora hanno anche modo di di verificare come è il loro rapporto con Gesù e l'Eucaristia come l'hai speso quel quarto d'ora che hai fatto che hai ascoltato che gli hai detto a Gesù gli hai detto qualcosa come ti è parso stavi guardando l'orologio quando finisce guardarsi pure purtroppo e non bisogna col proprio questo è la nostra miseria umana noi non abbiamo queste cose non ci vengono spontanee naturali sono cose che si imparano anche Luisa sta stretta nei silenzi di Gesù non aveva capito subito il loro valore no infatti Gesù glielo spiega con tanta pazienza con tanto amore no allora al silenzio bisogna educarsi perché è nel silenzio che noi metabolizziamo anziché sentire 500 catechesi sentine una però poi pensaci a quello che hai ascoltato magari risentila un'altra volta magari risentila una terza volta ancora anziché leggere 500 libri sempre nuovi rileggi i libri che hai letto quando hai trovato un libro bello rileggilo la seconda volta la terza la quarta la quinta perché la rilettura aiuterà poi nei momenti in cui non stai leggendo la tua la tua memoria la tua interiorità ad assimilarle quelle cose se no si hai letto delle cose bellissime ma la nostra la nostra natura è fatta così perché noi purtroppo non siamo come Dio ci ha detto qui Gesù qui Gesù ci ha detto che non siamo come Dio perché Dio fa un atto solo della divina volontà dice vale più tutta la creazione messa insieme è certo d'accordo non solo ma l'operare in maniera divina facciamo una piccola parentesi è abbraccia tutto e tutti cioè è chiaro perché Dio è fatto così quindi diciamo quando noi operiamo nella divina volontà diciamo che imitiamo il modo di agire di Dio facciamo il nostro il modo di agire di Dio ma non è che diventiamo dei a nostra volta questo sia chiaro cioè in un certo senso sì però adesso che spiego si capisce no? cioè Dio la memoria non ce l'ha sotto un certo punto di vista nel senso che Dio sa tutto e si ricorda secondo il nostro modo di parlare tutto nei nostri minimi nei minimi dettagli d'accordo? proprio fino all'ultimo particolare in tutto e per tutto quindi non è capito che c'è qualche cosa di misterioso cioè Dio semplicemente allora noi facciamo così cioè prova adesso che finisce questa meditazione no? io al termine della meditazione faccio sempre un tempo breve di silenzio perché questa è una meditazione come dire condivisa raccomando sempre che chi per esempio ascolta questa meditazione non in diretta finita la meditazione quando ci sta quel minuto di silenzio può anche schiacciare un bel tasto pausa e farne dieci di minuti di silenzio sarebbe molto meglio per ripensare per trasformare in preghiera quello che ascoltato dagli iscritti e se crede anche qualche cosa di quello che è uscito dalla meditazione questo sarebbe l'ideale perché se no prova tra due ore quello che ti che cosa ti ti ricordi che ti è rimasto certo è vero che anche come dire la pratica continua il martellamento continuo certo che poi lascia qualcosa quindi per carità si capisca bene però quando c'è una cosa che ti colpisce tu devi fare in modo di fermartela in qualche modo di stampartela nel cuore e come fai a fare questo devi fare silenzio te la devi ripetere la trasformi in preghiera te la scrivi su un pezzo di carta non lo so ci sono tanti ogni anima poi su questo si regola come meglio crede però senza il silenzio nelle cose di Dio le cose di Dio ci scivolano addosso capito dobbiamo fare attenzione questo perché perché parlavo della gola spirituale perché è questo d'accordo cioè quando una persona è golosa non mangia per vivere ma vie per mangiare quindi certamente il mangiare è una cosa necessaria ma quello trae pretesto è stata quella cosa necessaria perché cosa per soddisfare il palato per sentire gusti sempre diversi sempre nuovi allora mangia più del necessario mangia anche quando non ha fame mangia 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 e che succede? che diventa una balena diventa diventare una balena è una cosa buona non è una cosa buona diventare una balena ma non perché i cristiani sono fissati come adesso con la linea con la prova costume perché devono essere delle statue per mettere in mostro i propri attributi non è questo d'accordo? ma perché anche nell'alimentazione c'è un ordine cioè cioè il mangiare è un atto che rientra nella divina volontà figlioli miei cari lo so che noi non ci pensiamo perché cioè la gola è un vizio capitale non ci fa caso quasi nessuno d'accordo? specialmente di questi tempi dove si fa ben di peggio però la gola è un vizio capitale se tu hai messo dieci chili o c'hai proprio se è un caso clinico con un metabolismo veramente a quasi zero ti può far bisogno basale di mille calorie allora veramente dovresti fare la fame per non diventare una balena però devi far vedere da qualcuno per accelerarlo un po' sto metabolismo oppure devi riconoscere ti piaccia o non ti piace che hai fatto un sacco di peccati di gola e quelli non si devono fare non si devono fare non vanno bene perché il mangiare è una cosa che di per sé Dio ha fatto per che cosa? per il nostro bene non è un peccato come dire gustare un sapore i sapori li ha sparsi lo sappiamo dai libri di cielo li ha sparsi Dio nella creazione Dio vuole che ogni buon sapore che tu senti tante volte ce lo siamo detti ti dici dicevo il tuo ti amo signore mio da questa creatura che mi sta dando questo particolare sapore lo ricambio con il mio ti amo per me e per tutti ma poco però capito quello che è necessario perché se vai oltre quello non è più un bene ma divento vedete come la nostra volontà cioè il problema è sempre il problema è sempre la nostra volontà umana il problema è sempre la nostra volontà umana cioè non sono molte volte le cose in sé tant'è vero che la definizione classica di vizio o di virtù mi pare che fosse Santisidoro che si trova anche nel breviario che la date in maniera esemplare dice che cos'è la virtù è l'uso retto e secondo la legge di Dio delle cose che Dio ci ha donato e ha creato per noi il vizio cos'è è l'uso distorto e non conforme alla retta ragione e alla volontà di Dio di quelle stesse cose che Dio ha creato e fatto per noi tale quali pensiamo tutti quanti la lussuria che cos'è la lussuria la lussuria è un uso della sessualità umana alieno dal fine per cui Dio l'ha creata nel regno animale d'accordo non siamo gli unici a vivere questa dimensione se tu distorci il fine e la usi per altro quindi come strumento di godimento basso fine a se stesso pecchi ma non è che uno scusate se sono così esplicito se la può andare a prendere con gli organi genitali se fa un peccato impuro te la devi prendere con te che ne hai fatto un uso distorto quello non c'entra niente l'organo genitale fa quello per cui Dio come dire ha creato capito sollecitato in un certo modo scatena certe reazioni è la tua volontà che deve fare attenzione a a come usa questa cosa non so se cioè entriamo in queste lo dico anche a me lo dico io tante volte queste sono meditazioni che faccio anzitutto a me no quindi parola e silenzio l'importanza del silenzio il silenzio è fondamentale per imparare a raccapezzarci nella nostra vita per imparare a fare discernimento per avere delle luci nei momenti difficili quando siamo sotto tentazione quando stiamo sotto provo quando stiamo sotto scacco cioè che non ci raccapezziamo che faccio che non faccio se faccio questo se faccio quest'altro non sappiamo che fare allora regola numero uno quando è così mai agire di impulso cioè prenditi del tempo prenditi un po' come sempre è potente fare sta in silenzio pregaci riflettici se possibile frena i pensieri impulsivi e negativi e cerca di metterti in condizione nella calma nella pace di poter ascoltare piano piano la voce di Dio che se la cerchi si farà sempre più chiara però capiamo quanto è importante il silenzio silenzio che oggi purtroppo figlioli miei cari il silenzio oggi non c'è più oggi c'è un bombardamento continuo e cioè la gente per esempio molta gente si lamenta che è confusa è frastornata a volte è terrorizzata è bombardata è impaurita perché i media e i social network e questo e quell'altro se uno passa dal telegiornale a facebook da facebook a twitter da twitter a tiktok da tiktok a linkedin da linkedin a ritorna che ne so al telegiornale ma come si campa così uno riceve sberle sollecitazioni in continuazione quindi molto spesso una valanga di mondo almeno quando non sia proprio di fango nel resto mi sento depresso mi sento sconvolto dico ma che forza cioè non sei mica tu non sei mica di gomma se apri tutte queste porte cioè non è che uno deve campare fuori dal mondo ma aprile quel tanto che basta a apprendere ciò che è necessario lo stretto che è necessario tra l'altro poi in maniera sempre intelligente non sentendo una campana sola perché l'informazione noi dobbiamo cercare di assimilare come dire elementi complementari non andare appresso a priori al primo che chiacchiera non è prudente in nessun caso fare una cosa di questo specialmente di questi tempi insomma e poi anche qui prenditi i tempi di silenzio per capire per discernere per fare volevo anche dire qualche altra cosa però insomma credo che questo oggi fosse un punto importante io cerco sempre di trarre insomma dagli scritti di Gesù del libro di cielo anche degli spunti che possano essere come lo sono diciamo così utili non soltanto diciamo così per la comprensione particolareggiata del testo e del suo messaggio in sé che delle volte insomma è abbastanza agevole ma anche per alimento della nostra vita spirituale penso che questo punto del silenzio deve essere oggetto della nostra attenzione e quindi buon silenzio a tutti insomma a tutti coloro che hanno avuto la pazienza di arrivare fino alla fine nell'ascolto di questa meditazione grazie a tutti bene signore ti ringraziamo come sempre il premento di Maria Santissima di questa lezione che oggi ci hai dato aiutaci per l'intercessione di lei chiamata anche la Vergine del Silenzio ecco a imparare a vivere questa dimensione fondamentale della vita spirituale della vita cristiana ecco non è non è possibile vivere santamente cristianamente se non si impara a vivere bene e con frutto i momenti di silenzio in cui cerchiamo di assimilare e fare tesoro di tutte quante le grazie e gli insegnamenti che attraverso molte fonti grazie a te oh signore quotidianamente non manchi di far arrivare la nostra anima nella divina volontà nel nome del padre e del figlio e dello spirito santo amen ti benedico per aiutarti ti benedico per difenderti ti benedico per perdonarti ti benedico per ridurarti da ogni male ti benedico per consolarti ti benedico per farti santo ti benedico dunque nella divina volontà nel nome del padre e del figlio e dello spirito santo amen fiat ave Maria grazie a tutti grazie a tutti